Buongiorno, sono Veronica. Fin da bambina nutro la passione per l'estetica e la bellezza. Nel 2004 mi sono specializzata diplomata come estetista. Negli anni mi sono specializzata in vermo compimentazione perché ritengo sia la firma per poter esaltare il vostro volto. Ti aspetto per progettare insieme una nuova luce nel tuo volto.